La Regione Puglia ha il servizio di famiglie, anziani e persone disagiate. Mentre la crisi economica attanaglia sempre di più la popolazione, la Regione Puglia mette a disposizione 129 milioni di euro a numerosi comuni per far fronte alle esigenze di famiglie, anziani, bambini, soggetti fragili e a rischio di esclusione. Un'iniziativa avviata grazie al nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, con 36 milioni di euro di risorse ordinarie e 93,5 di fondi aggiuntivi sulla programmazione nazionale e comunitaria, la Regione Puglia sarà in grado di far nascere nuove comunità solidali per sostenere una migliore qualità della vita. Principale obiettivo del Terzo Piano delle Politiche Sociali è dunque il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari. Dare un segnale ai comuni perché non si disinvesta sulla rete dei servizi per il welfare, quindi per il benessere delle persone e delle famiglie, sia dai bambini alle persone anziane non autosufficienti. L'appuntamento è stato rispettato da un punto di vista temporale perché scadeva quest'anno il Terzo Triennio di Programmazione Sociale, il secondo triennio, chiedo scusa, per avviare il Terzo Triennio. Stiamo assicurando la continuità della programmazione agli ambiti territoriali. Oggi presentiamo ufficialmente il Piano Regionale delle Politiche Sociali. L'obiettivo è quello di avere entro fine anno i 45 piani sociali di zona e soprattutto i progetti per utilizzare a pieno le risorse del Piano di Azione e Coesione messi a disposizione dall'ex Ministro Barca, quindi dal Dipartimento Coesione e Territoriale, in particolare per i bambini e per gli anziani. È importante perché in questo caso solo gli ambiti territoriali, che entro dicembre riescono a concludere le progettazioni, non perderanno le risorse. E abbiamo fatto un punto d'onore per la Regione Puglia, quello di non perdere neppure un euro delle risorse per queste politiche. Tra le novità della nuova programmazione regionale spicca l'introduzione di precisi obiettivi di servizio nell'area del contrasto alla povertà, con l'attivazione in ambito territoriale di un punto di pronto intervento sociale e con la regolamentazione di contributi economici in casi di indigenza estrema per scongiurare clientele e sprechi.